ok vi dicevo il quadro normativo e abbiamo capito la 979 l'Oil Pollution Convention a Prepare Response and Cooperation e poi i piani di pronto intervento quando si tratta di inquinamento marino ovviamente i livelli di emergenza dicevo sono tre quindi quello più semplice nel quale interviene il piano operativo locale del compartimento marittimo e quando invece diciamo l'inquinamento diventa un inquinamento più complesso quindi o rischia di raggiungere le coste o ci sono dei pericoli per l'ambiente marino o i mezzi per fronteggiarlo non sono adeguati da parte del compartimento marittimo allora si dichiara quella che è l'emergenza locale ed entra in azione il piano antinquinamento del ministro dell'ambiente ovviamente quando l'inquinamento rischia di raggiungere le coste sono coinvolte tutti quanti gli enti locali che hanno la gestione e la competenza delle coste quindi i comuni, le province, le prefetture in un'ottica diciamo di sinergia per fronteggiare l'inquinamento sia mare che a terra e su tutta la costa e quando tutti quanti i mezzi messi a disposizione dalla capitaneria e dalla flotta antinquinamento del ministero che è una flotta dislocata su tutto il territorio nazionale di cui poi vi parlo brevemente non riescono comunque a fare fronte a questo tipo di inquinamento di emergenza si passa addirittura a quella che è la dichiarazione di emergenza nazionale che viene dichiarata su richiesta del ministro della transizione ecologica dal dal presidente del consiglio dei ministri e che quindi diciamo fa scattare l'attivazione del terzo livello quindi dell'attivazione del piano del dipartimento della protezione civile questi piani antinquinamento quello del dipartimento della protezione civile è aggiornato al 2010 e quello del ministero dell'ambiente è aggiornato al 2013 ma abbiamo fatto negli ultimi mesi un grande lavoro insieme a ISPRA insieme al comando generale delle capitanerie di Porta abbiamo creato dei gruppi di lavoro e quindi questi piani sono stati praticamente aggiornati quindi aspettano di essere approvati sia dal ministero che dal dipartimento e quindi avremo dei piani che sono più organici che rappresentano meglio quello che viene effettivamente fatto nella realtà rispetto ai piani più vecchi e l'impegno appunto del ministero in base alle norme è quello di avere questa flotta antinquinamento i famosi battelli gialli della Castalia che sicuramente tutti quanti avrete visto che sono appunto in totale 32 unità dislocate su tutto il territorio nazionale suddivise in 23 battelli costieri e 9 battelli d'altura che ovviamente sono in stand by ma attivabili H24 nel giro di massimo due ore dalla chiamata da parte del ministro dell'ambiente perché quando appunto c'è necessità di intervento i capitanieri di Porto contattano il ministro dell'ambiente in particolare i numeri dell'emergenza del COIMAR che è diciamo l'ufficio deputato a rispondere appunto alle emergenze e il COIMAR decide diciamo l'attivazione di questi navi antinquinamento qui vedete appunto due immagini quella in basso è un battello d'altura e quella sopra invece è un battello costiero oltre diciamo a effettuare queste attività in emergenza fanno anche del pattugliamento delle piattaforme quindi delle aree che sono particolarmente a rischio perché sono piattaforme offshore per l'estrazione proprio petrolifera che sono in Adriatico e nel canale in Sicilia e nell'ultima convenzione perché queste convenzioni hanno una durata biennale il ministero proprio diciamo nell'ottica di questa grave preoccupazione per il marine litter che è stata espressa un po' da tutti i partecipanti diciamo anche negli interventi prima del mio ha voluto aggiungere un'attività proprio di raccolta del marine litter in galleggiamento alle voci dei principali fiumi italiani quindi diciamo che 19 delle 32 unità costiere hanno tutta una serie di attività di ricerca di pattugliamento delle foci costiere e di raccolta dei rifiuti soliti quindi del marine litter che poi come dicevamo prima come diceva prima qualcun altro con la salvamare finalmente sono stati diciamo classificati come rifiuti urbani che possono quindi essere conferiti a terra smaltiti senza costi da parte di chi effettivamente li raccoglie come hanno detto prima era un grave problema per i pescatori diciamo come dicevo appunto partono su indicazione del ministero a seguito della richiesta o da parte dell'autorità marittima competente che sta quindi gestendo un inquinamento nelle acque nazionali oppure per quanto riguarda gli interventi in acque internazionali abbiamo ovviamente dei meccanismi di cooperazione perché sappiamo che il mar Mediterraneo è un bacino estremamente delicato e che quindi diciamo i confini in mare non esistono e quindi ovviamente lo spirito è quello di riuscire a lavorare quanto prima di intervenire quanto prima su tutte le situazioni che possono in qualche modo mettere a rischio la biodiversità e la salute del nostro mare e quindi i battagli Castalia possono essere attivati anche dai membri dell'Unione Europea attraverso l'EMSA quindi l'Agenzia Marittima per la Sicurezza Europea attraverso appunto un sistema di attivazione molto rapido del CECIS oppure ancora diciamo i membri della sponda sud del Mediterraneo quelli che comunque non fanno parte dell'Unione Europea possono comunque richiedere l'attivazione dei mezzi Castalia attraverso il centro regionale per l'inquinamento marino del Mediterraneo che è il RENPEC che si trova a Malta e che diciamo è uno dei centri che sono stati realizzati nell'ambito di quella che è la Convenzione di Barcellona oppure ancora diciamo in maniera più diretta l'argomento diciamo anche che sarà accetto delle slide successive può essere richiesto l'intervento dei mezzi a trinquinamento e ovviamente anche della Guardia Costiera italiana attraverso l'accordo Ramos e l'accordo Ramos nasce diciamo da un desiderio del principe Ranieri III nel 1970 addirittura quindi c'era veramente una grande ingimiranza diciamo nella tutela di quello del mare e si realizza nel 76 quindi viene firmato diciamo nel 1976 quindi nasce proprio per diciamo creare una risposta congiunta perché come potete immaginare le acque del principato di Monaco sono molto piccole una fetta molto stretta e quindi diciamo nasceva come la necessità proprio di chiedere ai paesi più grandi di Vieraschi di collaborare e di sopportarlo in situazioni diciamo di inquinamento e vi ho messo diciamo appunto una slide con una cosa della commissione e come vi dicevo appunto nasce l'esigenza viene posta nel 1970 viene firmato nel nel 76 il nome è indicava quelle che erano all'epoca i punti principali le città principali quindi San Raffaele Monaco e Genova dopodiché ovviamente nell'81 invece viene proprio attivato scritto il piano scusi scusi dottoressa le chiedo solo di velocizzare perché siamo un po' in ritardo e abbiamo un po' di problemi di ritardo grazie andrà velocissima e quindi diciamo la zona viene allargata dalla foce del Rotano fino alla Spezia e l'area di intervento diventa ancora più ampia quindi si arriva praticamente fino sotto la Sardegna l'accordo Ramos prevede appunto una struttura funzionale che però parte dal basso e va verso l'alto quindi esistono dei gruppi di lavoro di cui poi vi parlerà anche il dottor Tunesi come vedete all'accordo Ramos partecipano sia la regione Liguria che l'ARPA che il Principato di Monaco ma anche l'ISPRA la Guardia Costiera l'IFREMER il Ministero insomma siamo un po' tutti quanti e si fanno delle esercitazioni congiunte ogni anno che vedono quindi l'attivazione reale di tutti quanti i mezzi quella del 2000 l'ultima e si vengono organizzate in maniera alternata un anno dall'Italia un anno dalla Francia nel 2022 ad ottobre abbiamo scelto proprio di organizzare l'esercitazione a Imperia quindi riguarderà proprio diciamo la regione Liguria e l'intenzione del Ministero quindi nella nostra intenzione c'è quella di richiedere anche la partecipazione degli enti locali per la parte a terra se volessero partecipare perché l'accordo prevede solo l'esercitazione in mare ma ovviamente siccome già nel 2018 quando l'abbiamo fatto in Sardegna la partecipazione della parte a terra è stata molto interessante perché poi nella realtà si lavora in sinergia sia in mare che sulle coste quando ovviamente l'inquinamento è grave e arriva anche sulle coste ci piace diciamo provare a a fare un'esercitazione più concreta l'ultima volta in cui è stato attivato è purtroppo nel 2018 in cui c'è stato questo grosso incidente da Luris e Virginia e sono diversati 600 metri cubi di fuel oil e ovviamente abbiamo attivato immediatamente i mezzi della Guardia Costiera quindi l'aeroplano Lattier che è andato a fare una prima sorveglianza le moto vedette della Guardia Costiera ma abbiamo attivato appunto su richiesta della Francia anche i mezzi del ministero e quindi sono intervenuti 5 mezzi d'altura che hanno lavorato per 15 giorni e hanno recuperato 287 metri cubi di fuel oil di quei famosi diciamo 600 sversati nonostante questo ovviamente l'inquinamento fortunatamente dalle correnti è stato portato principalmente diciamo in Francia non ha coinvolto in maniera importante le acque territoriali le coste italiane ma il lavoro diciamo a mare è stato particolarmente intenso concludo invece con una cosa una nota positiva nel senso che il ministero ha due convenzioni che tendono appunto a con le comando generale delle capitali di porto che tendono a tutelare le aree marine protette la prima appunto l'ultima insomma è nel 2020 e scadranno a maggio 2021 che vede proprio il potenziamento del pattugliamento ma da novembre 2022 abbiamo fatto un'altra convenzione dedicata proprio a tre temi fondamentali di cui uno di questi tre è proprio il mare in litter e quindi è la individuazione e la rimozione del mare in litter all'interno dei fondali delle aree marine protette e quindi mi sembravano molto interessanti le presentazioni che sono state fatte prima dalle MP e per quanto riguardava diciamo le aree marine protette vi ringrazio spero di non aver sforato troppo grazie grazie mille grazie 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 a tutti